Da notare che l'altra squadra, Lipswich, è già stata eliminata. Le immagini si ritiriscono all'incontro di Francoforte tra l'Aintracht e appunto la sovietica Rostov. Questo è il gol al terzo minuto segnato dall'austriaco Bruno Pezzai. In mischia, sugli sviluppi di un calcio di punizione, si gira molto bene. Un bel gol, questo di Bruno Pezzai, un difensore che spesso va in gol. Ancora attacchi della formazione tedesca. Le immagini vi dimostrano una specie di monologo della squadra tedesca che aveva perso all'andata in Unione Sovietica per 1-0 e che quindi ha premuto per tutto l'incontro, spinta anche dal gol iniziale, segnato appena al terzo minuto, per arrivare al secondo gol che gli consentisse il superamento del turno. Questo lungo monologo si è concretizzato, vedete al termine di quest'azione, c'era forse un fallo di mano. L'arbitro non concede il calcio di rigore, ma il calcio di rigore viene concesso nel proseguimento dell'azione per questo intervento irregolare. Ecco il calcio di rigore che l'arbitro Hunting, l'inglese Hunting, decreta e che viene realizzato da Laurent. Ed è il 2-0, passa il turno, L'Eintracht. Ed è il 3-0, è il 3-0, è il 3-0.